Che cosa ha da dire la filosofia ai giovani? Abbiamo visto la domanda platonica a cui viene data una risposta possibile, cioè la rivolta dell'anima su se stessa e tuttavia questo ci lascia un po' a bocca asciutta, quasi delusi. Non c'è altro che la filosofia possa dire ai giovani, non c'è almeno un insegnamento che possa dare alla generazione, ad esempio della serie tv 13 di cui Lucrezia parlava prima, la generazione con i problemi esistenziali che si trova ad affrontare, con le dinamiche sociali nuove legate alla rete che molto spesso sono dirompenti. Ecco, la filosofia che cosa ha da dire qui? Proverò a rispondere non con le parole di un filosofo, ma con un uomo di sport, uno dei più grandi giocatori di basket che siano mai esistiti, Michael Jordan. Cito delle sue parole. Nella mia carriera ho sbagliato più di 9.000 tiri. Ho perso quasi 300 partite. Per 36 volte i miei compagni si sono affidati a me per il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito tante e tante volte nella mia vita ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Ecco, se c'è un insegnamento inattuale, paradossale, all'apparenza non solo inutile ma quasi controproducente che la filosofia può dare ai giovani, là dove lascia da parte i discorsi edificanti, è un'educazione al fallimento. Noi siamo una società che è al terrore del fallimento, non semplicemente come caduta, ma ne è al terrore perché è solo attraverso un'esperienza del fallimento che noi possiamo fare esperienza di ciò che non sapevamo di poter fare. Ecco la grandezza e la forza dell'errore, del fallimento, della sconfitta è solo nel momento in cui un soggetto si espone a questo tipo di rischi che scende fuori dall'alveo in cui si era iscritta la sua vita, taglia per una via secondaria rispetto alla strada battuta e allora lì può fare esperienza di qualcosa di inedito, lì può sperimentare potenzialità che nemmeno non sapeva di avere. Senza l'esposizione al rischio del fallimento non si hanno, dice Michael Jordan, vittorie, ma non la vittoria del ho realizzato quello che potevo fare, la vittoria del ho inventato un nuovo modo di giocare e ho vinto in tutt'altro modo. E qui la grandezza e la sfida di quella formula che citavo prima che è di Nice, diventa ciò che sei. Non si diventa ciò che si è, uno potrebbe dire, io sono già quello che sono. Ecco diventare ciò che si è e provare a sperimentare le potenzialità inedite a rischio del peggio, a rischio dell'errore, a rischio del fallimento, contemplati non semplicemente come lato negativo ma come una delle potenze dell'esistenza. Questo richiede naturalmente molto più forza ai soggetti, richiede un certo tipo di allenamento mentale che non è semplicemente quello di obbedire a delle regole, quindi di seguire la strada verso la giustizia o la bontà, ma quello di mettersi in gioco continuamente, costantemente per reinventare nuove regole del gioco e nuovi mondi. Le rivolte anche in ambito culturale hanno fatto questo, hanno battuto sentieri che prima non solo non erano battuti, ma neanche sembravano essere esistenti. Quando i Pink Floyd danno vita alla loro opera musicale, fanno qualcosa che fino a poco tempo prima non era nemmeno pensabile. O prendiamo il grande esempio della pop art, visto che siamo nell'ambito della pop filosofia. Fino all'arrivo della pop art c'era un circuito ben delimitato dove l'arte poteva esercitarsi, ed era quello della cultura alta. Tutto il resto non era un campo sperimentabile, era un campo appunto dell'errare, dell'errore, dell'inimicizia verso la cultura. La pop art è stato il tentativo di rompere questa chiusura e sperimentare a rischio dello scacco, a rischio del peggio. E lì abbiamo avuto una delle più straordinarie invenzioni culturali del Novecento. La pop filosofia in questo senso è stata un'esperienza generazionale di questo tipo. Non è un caso che sia stata affidata, diciamo così, alla follia, perché dieci anni fa era questo, di alcuni giovani, che hanno fatto proprio questo, hanno seguito l'indicazione originaria della filosofia. Prova a sbagliare, prova a compiere uno scacco, ma che sia bello grande. Se deve essere un errore deve essere quasi epocale. Ecco, la filosofia in questo senso del Novecento, quando dà vita alla pop filosofia, si espone a questo, ritorna alla sua origine, ritorna alla possibilità di prendere il rischio di sperimentare qualche cosa di nuovo ed inedito. Ed è quello che si fa qui da più di dieci anni, mettendo insieme musica rock e platone, il greco della periagogè Olestes Psuches e i Pink Floyd. Tutto questo appunto sembra l'impossibile e l'inaccettabile, ma non c'è esperienza che non sia esperienza dell'impossibile, perché tutto quello che abbiamo detto non vale solo per la cultura, non vale solo per l'educazione, tocca un punto centrale dei soggetti. Noi siamo soggetti oggi che sempre meno siamo in grado di fare esperienza, cioè ci misuriamo solo con quello che pensiamo essere nelle nostre capacità, nelle nostre possibilità, nelle nostre corde, ma allora lì non c'è nessun tipo di esperienza, lì non c'è nessuna intensità di vita, semplicemente facciamo quello che siamo abituati a fare. Esperienza è misurarsi con l'impossibile, cioè quello che non è nelle mie possibilità e che tuttavia, se lo sperimento, posso fare a rischio del peggio. La strada non tracciata che non so dove mi porta e che tuttavia provo ad imboccare, perché solo lì può avvenire l'incontro vero e proprio. Uno dei grandi filosofi del Novecento, aveva 34 anni, quando andò in America, fece una conferenza, il suo maestro gli disse, molto bravo, ma non so dove tu stia andando. Quel filosofo era il giovane Jacques Derrida che rispose, vede, se io lo sapessi non ci andrei. Grazie.